salve a tutti ragazzi in questo video andremo a prendere tutte le stelle e tutti i timbri nel primo mondo di super mario 3d world per nintendo switch iniziamo subito let's go oh 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 Sì, sì, sì! Sì, non è vero. Grazie a tutti. 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 Let's go. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Let's go. All right. 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 All right.